La Giulia Lanciani è casata con il gran professor Giuseppe Tavani, che è il nome grande cantalianista italiana. E poi nel 1995 ho pubblicato poesie. Nel 2001 ho l'Archi dei Dias, nel 2007 ho il canto. Nel 2009 a Barcelona va editato un libro itinerario poetic per tutta la parte catalana e tutta l'espoesia ha decresciuto nei libres e n'hi ha anche alcuni inedites. I ora iniziamo il mio itinerario poetic. Io pensi di iniziare una della prima poesia che ho scritto, proprio al 91, è Versos. Novo, nos meus versos, tancati l'inizio di un calasso. Voi che vaggi in pescarelli, pescorrarsi, entro la roba estesa al sol, ad avere l'ugel al cor della gente. Ma fai tiranaxia e volviare, gozata a mello di adepolungia, l'utteide dell'inverno. Quando la lunga fa a mezzavara e saprei che vengare la cara del sol e altri versos montaranno dei abismi che bullino di parole. Quando i miei occhi saranno raggini amagati, i miei canti seguiranno ancora i pescarelli. Alguro si ascolterà, altri no, però viurrà un po' la mia anima. La seconda è di aver morto.